Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori sedie da gaming vi invito ad un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video quindi cominciamo con la sedia da gaming Trust Gaming questa sedia da gioco è dotata di un sistema di illuminazione che offre la possibilità di personalizzare l'illuminazione con 300-350 colori diversi permettendoti di creare l'atmosfera perfetta per le tue sessioni di gioco la sedia è progettata ergonomicamente per offrire un comfort ottimale durante le lunghe sessioni di gioco è completamente regolabile in altezza permettendoti di adattarla alle tue esigenze la sedia è completamente girevole a 360 gradi offrendoti una grande mobilità per accedere facilmente a tutti i punti del tuo spazio di gioco o di lavoro questa sedia è dotata di cuscini rimovibili per il supporto lombare e gervicale consentendo di personalizzare ulteriormente il tuo comfort poi troviamo la sedia da gaming Auto Full questa sedia è progettata ergonomicamente per fornire un supporto ottimale durante le sessioni di lavoro o di gioco riducendo la fatica e migliorando la postura è possibile regolare l'altezza della sedia e l'inclinazione del sedile per adattare le tue preferenze e ai tuoi bisogni la sedia è dotata di un poggiatesta regolabile e di un supporto lombare per fornire conforto aggiuntivo e sostenere la zona del collo o della schiena la sedia include anche un poggiapiede estensibile per offrire un conforto aggiuntivo durante le pause o in relax e per finire ecco la sedia da gaming Klim Esports questa sedia è progettata per fornire un sostegno ottimale alla schiena e al collo riducendo l'affaticamento durante lunghe sessioni di gioco o di lavoro è dotata di un supporto lombare e cervicale regolabile per un conforto personalizzato e per ridurre la tensione nella zona del collo e della schiena la poltrona è reclinabile permettendo di regolare l'inclinazione del sedile e del poggiatesta per trovare la posizione più confortevole è realizzata con materiali di alta qualità tra cui pelle sintetica per una lunga durata e resistenza all'usura ecco grazie per aver seguito questo video spero che ti sia stato utile non esitare a mettere un like, un commento ed iscriverti al canale è sempre un piacere ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video grazie a tutti grazie a tutti